Luigi Gallo. Chi non riesce a votare? Palese. Ha votato altri? Magorno. Bene, ci sono altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 412, votanti 327, assoluto 85, maggioranza 164, fuori 326, contra il riuno la Camera approva. Siamo all'articolo 5, non vi sono emendamenti, se nessuno chiede di parlare la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Bolognesi, Palese, Del Grosso, Locatelli, Raciti. Palese, non riesce a votare? Ok, vada, non riesce a votare, voti. Deve solo farsi coraggio. Bene, la votazione è chiusa. Presenti 416, votanti 325, assoluto 91, maggioranza 163, fuori 325, contra il riuno la Camera approva. Siamo all'articolo 6, ho bisogno del parere sull'unico emendamento 6.070 marchi. Bene, grazie, votiamo prima l'articolo 6, giusto? Bene. Votiamo l'articolo 6 e poi passiamo all'aggiuntivo. Votiamo l'articolo 6 e la votazione è aperta. Bene. Qualcuno non riesce a votare? Chi è io? Grillo. Altri? Zaratti. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 323, assoluto 91, maggioranza 167, fuori 332, contra il riuno la Camera approva. Siamo a questo punto all'aggiuntivo. 6 punti.